Aria, aria di casa mia, aria di libertà, aria di casa mia, aria di casa mia, aria di casa mia, aria di casa mia. Aria di casa mia, aria di casa mia, aria di casa mia, aria di casa mia. Aria di casa mia, 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 aria di casa mia. Dai, smettila, se ci vede mio marito Cos'è, gli piglia un colpo? Tanto siamo in farmacia Ciao Oh, ciao Come mai qui? Ti senti poco bene? No, sto benissimo Cercavo uno shampoo Alla camomilla qui Come mai alla camomilla? Hai il cappello agitato? Senti, cosa fai dopo? Lo so, torno in albergo Guarda, adesso sono... Le cinque Esatto Perché non viene a casa mia? A far cosa? Lo shampoo Dalle cinque alle sei è un classico C'ho anche il fondo Ma tu non sei già impegnato con quella? Ah, ma lei lo shampoo glielo faccio anche domani, non c'è problema Poi glielo ho già fatto uno anche ieri, tutti i giorni le fa male Pagò uno shampoo Sono 6.500 Dai, esageriamo Prendiamo anche un bagno schiuma Così ti faccio il body massage Allora anche un bagno schiuma? No, l'idea del brumuro Che magari si dà una calmata Vado bene anche io per il body massage? Le cose mi dice Mi me fa se casse miei Ehm Ehm Grazie a tutti